Uno sposalizio che vede la fondazione DMO Dolomiti e il coordinamento delle sezioni CAI delle Dolomiti Bellunesi, quindi 18 sezioni, unirsi per creare una strategia comune. Rafforzare le collaborazioni sul territorio, questa una delle prime azioni messe a punto dalla neonata fondazione DMO Dolomiti Bellunesi per implementare ulteriormente le proprie traiettorie di sviluppo nel meraviglioso contesto delle Dolomiti Patrimonio Unesco. La DMO ha fatto il primo passo chiedendo al coordinamento di poter agire insieme, abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale avvallata poi dal CDA e adesso dovremmo sederci a un tavolo di lavoro per garantire attraverso quello che è il CAI e quindi questo bagaglio infinito di conoscenza del territorio, di reti e sentieri, che cosa? La manutenzione in primis, cosa che il CAI già fa, ma soprattutto anche la continua informazione in modo che una persona che entra in un ufficio turistico possa sapere lo stato dei sentieri, quali sono percorribili e quali no e il continuo monitoraggio degli stessi. Più di 12.000 sono gli iscritti al CAI in provincia di Belluno, uomini e donne che in primis amano la montagna, pronti a mettersi in gioco dunque in prima persona per divulgare tutto quello che essa rappresenta. Solo un'amplificazione dando soddisfazione ai volontari di quello che realizziamo, vale a dire informare il turista sulla fruibilità dei sentieri, sono percorribili le difficoltà che hanno, i rifugi sono aperti, i bivanchi sono aperti, le ferrate sono percorribili anche esse, tutto finalizzato a valorizzare il territorio e quindi dare un contributo anche all'economia di questo territorio. Una nuova partnership non a caso annunciata in occasione della presentazione della nuova guida realizzata da National Geographic Alta Via delle Dolomiti numero 1 che risulta essere strategica sotto molteplici punti di vista. È strategica perché i sentieri sono un'infrastruttura, sono il prodotto turistico, le persone che vengono sul nostro territorio vengono anche per fare delle passeggiate quindi è assolutamente necessario che i sentieri sia per l'escursione di un giorno che per i trekking di più giorni come le alte vie siano sempre in condizioni di sicurezza ottimali e siano costantemente monitorati.